Minacce e raid armati con mitragliatrici e pistole per estorcere denaro dai 800 ai 3.000 euro da titolari di attività di ristorazione, commercianti a dettaglio e rivenditori nel mercato ittico di Pozzuoli. Tre persone sono finite in manette. Questa mattina Pozzuoli, carabinieri del comando provinciale di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di tre indagati ritenuti gravemente iniziati a vario titolo di estorsione, tentata estorsione in concorso e detenzione porto illegale di armi con le aggravanti delle finalità mafiose. Le attività investigative hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine a sei estorsioni a danno dei titolari di attività di ristorazione, commercianti al dettaglio e rivenditori nel mercato ittico di Pozzuoli con richieste di somme di denaro tra gli 800 e i 3000 euro, anche con l'uso di mitragliatrici e pistole. Gli episodi estorsivi avvenuti tra il mese di settembre e il mese di dicembre 2017 sono stati messi in atto da un gruppo di soggetti facenti capo ad Avallone Carlo, detto il Fantasma, che forte dell'assenza dal territorio di capi storici del clan Longobardi avrebbe posto in essere numerosi raid armati e esplosione di colpi d'arma da fuoco, oltre dieci in soli tre mesi, a danno delle attività commerciali. Alla ricostruzione dei vari episodi hanno concorso le attività di intercettazione con i riscontri delle testimonianze rese dalle vittime. Ha giocato un ruolo decisivo il ritrovamento della contabilità contenuta all'interno di una sorta di agente dove erano indicati, con termini anche criptici, i commercianti da taglieggiare e le somme da pagare. Tale agente è stata rinvenuta all'interno del locale in cui l'Avallone si nascondeva per evitare l'esecuzione di altra misura cautelare.